Tom si recò a casa di sole, intossicato dalle attese per la serata. Era convinto che per una volta le sue aspettative avrebbero coinciso con la realtà. Come stai? Bene, tu? Bene. Questo so che ti piacerà, ti piacerà. Grazie, sei gentile. Che cos'è? Grazie. Figurati. Non ti dovevi disturbare. Ho pensato che... Sei stato gentile, grazie infinite. Non vedo l'ora di lei. Vieni presente, vieni. Ok. Raccontaci, Tom, cosa fai di bello? Scrivo frasi da stampare sui biglietti da auguri. Ma sarebbe stato un grandissimo architetto se avesse voluto. Beh, ammetterei che è curioso. Come si prende una decisione del genere? Niente, un giorno ho pensato... Perché lavorare a qualcosa di effimero come un edificio? Se puoi fare una cosa che dura per sempre come un biglietto da auguri. Perchè non? Eh? Cosa? Non lo stai. Andiamo giusto. Noone's got it all. Noone's got it all. No one's got it all I've heard to the people We don't want more pleasure And I see this child rape us And I guess that they succeed And we're going to these means And we're doing mean And we're trying to be faithful And we're going to teach, teach, teach And the hero of this world Don't need to be the same I'm the hero of this world Don't need to be saved I'm the hero of this world Don't need to be saved I'm the hero of this world Don't need to be saved It's all right 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 Grazie a tutti.